Buongiorno, mi chiamo Claudia, sono la titolare di Petite Bijoux, lavoro da 22 anni nei mercati, ma i miei genitori hanno iniziato nell'86 con frutta e verdura. Abbiamo preso la nostra attività nel 2000, quindi con un po' di bigiotteria, mentre adesso abbiamo aggiunto tutti i accessori made in Italy in pelle. Buongiorno! Amo il mio lavoro, specialmente in estate, quando lavoriamo col turismo. Ci dà molta soddisfazione, facciamo circa 10 mercati alla settimana in tutta la riviera romagnola, da Milano Marittima a Bellaria. Ho due figli, uno ha già iniziato la stagione con mio fratello, nella frutta e verdura, perché comunque continuiamo anche nel settore frutta e verdura, e ha 16 anni. La piccolina invece mi segue nei serali con me nella bigiotteria. E accessori moda. Poi hai lavorato anche incinta? Certo, fino al nonno mese abbiamo fatto tutte le fiere di Natale e ho calcolato tutti e due i figli i primi dell'anno, lontani dalla stagione e dopo le fiere di Natale. Un'altra donna ambulante, grazie di essere stati con noi. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Telefone artigiano.